Buongiorno, buon pomeriggio, io sono Silvia, una professoressa di lettere. In questo video e nel successivo vado a fare un quadro generale di quello che succede al termine della Grande Guerra. Quindi, la Prima Guerra Mondiale viene appunto definita la Grande Guerra, una guerra totale, anche per l'impatto che ha avuto sulla popolazione e per la quantità di soldati che hanno partecipato ad essa. Si calcola che circa 65 milioni di soldati sono stati arruolati durante questo periodo storico e fra gli 8 e i 10 milioni di loro siano morti. Quindi un grandissimo dispiegamento di forze, sia sul fronte ma anche comunque per quanto riguarda la popolazione civile che era rimasta a casa. Andremo a vedere in generale un po' quello che succede. Cosa lascia questa Grande Guerra? Lascia un peso molto grande, lascia delle questioni che devono essere risolte, sia sul piano geopolitico, perché bisogna ricreare una nuova carta dell'Europa a causa della fine, del disgregamento dei quattro grandi imperi. C'è una questione anche economica che dovrà essere affrontata perché l'industria dovrà essere trasformata da militare a civile e l'industria diventerà uno strumento che produce prodotti di massa. E parlando sempre di masse, sul piano politico le masse sono state mobilitate nel 14, nel momento in cui una forte, una grande parte della popolazione ha manifestato e ha fatto presente qual era il proprio punto di vista, così continueranno a farsi sentire le masse. Partiamo da, anche in generale, dall'Europa. L'Europa che è stata davvero il centro della storia, dell'economia, della politica per un sacco di tempo. Adesso verifica, si rende conto che al termine di questa guerra è un'entità fragile che perde un posto egemonico che le è sempre appartenuto. Ci sarà un breve momento in cui ci sarà davvero un vuoto di potere. Il mondo sarà privo di un centro ma poi verrà subito preso dagli Stati Uniti. Cosa succede? Succede che l'Europa si rende conto che non è più in grado di ricostruire un ordine internazionale equilibrato e sicuro perché da un lato, lo andremo a vedere con i trattati di pace appunto, gli Stati hanno questo desiderio di vivere in pace, vivere in quiete, porre fine a questo grande scontro ma le tensioni della prima guerra mondiale non spariscono completamente, anzi, continuano a esserci tanto che poi noi sappiamo che a distanza di qualche decennio scopperà un secondo conflitto mondiale. L'Europa, tutti gli Stati europei, sia quelli che hanno vinto, sia quelli che hanno perso, usciranno con delle grandissime crisi economiche e sociali perché? Perché arruolare tutti gli uomini, tutti i soldati che abbiamo visto prima, acquistare tutte le armi, insomma tutto è necessario, la guerra ha creato grandissime spese e alla fine l'economia ha prodotto un sistema di inflazione a causa della grande quantità di denaro circolante, vedremo come un'inflazione però dal termine della guerra sarà una questione che deve essere risolta da molti Stati europei e in tutto questo, in questa situazione, quindi fine della guerra, tutte le problematiche viste arriva fra il 18 e il 19 l'epidemia della spagnola, questo tipo di influenza che arriva in Europa dalla Cina tramite la Spagna per questo ha questo nome appunto che andrà a mietere circa 50 milioni di morti in Europa fra il 18 e il 19 l'anno forse più acuto 20 e 21 avremo ancora qualche piccola andata, qualche strascico, quindi l'Europa è davvero in ginocchio mentre gli Stati Uniti sono gli unici che escono in qualche modo meno provati da questo conflitto perché non hanno avuto nessun attacco sul proprio territorio, perché sono entrati successivamente perché avevano già un apparato sociale, economico e militare molto forte. Un ruolo importante c'è la Wilson, il presidente degli Stati Uniti, che durante la conferenza di pace proporrà una soluzione in qualche modo in 14 punti per cercare di riorganizzare, dare un nuovo assetto all'Europa puntando su alcuni principi peruli fondamentali come l'autodeterminazione dei popoli, una libertà di commercio, la riduzione degli armamenti e la necessità di creare una società delle nazioni. Questo qui era il programma idealistico su cui si basavano questi punti, però vedremo che sono belli forse in teoria poi è difficile applicarli per le motivazioni dette perché è vero che si vuole la pace ma le difficoltà, le divergenze anche, continuano a esserci e perché gli Stati Uniti stessi poi non parteciperanno per esempio alla società delle nazioni perché è anche difficile sostenere un principio di autodeterminazione dei popoli in alcune regioni dove convivono davvero etnie, religioni diverse ma in grandissimo numero quindi è difficile riuscire ad accontentare tutti, andremo a vedere come gli accordi di pace porteranno a profughi sfollati quindi anche riordinare in qualche modo la geografia andrà a creare altri problemi. Due parole sui punti che diceva Wilson, Wilson quindi dava importanza al principio di autodeterminazione quindi qual'era l'idea? L'idea che ogni Stato, ogni popolazione si dovesse autodeterminare e dovesse quindi riconoscere la propria sovranità ed essere poi riconosciuto anche dagli altri Stati ma ribadisco difficile, soprattutto pensiamo nella zona dove c'era l'impero ottomano difficile da pensare perché davvero convivono tantissime etnie diverse ma non garantire loro un'autodeterminazione andrà appunto a creare profughi, andrà a creare malcontenti e spinte nazionaliste che stanno ancora molto forti. La pace vedremo che non sarà equilibrata in quanto al Trattato di Pace di Parigi che è il più grande e poi ce ne saranno altri, come si dice, collaterali non parteciperanno gli Stati vinti e soprattutto la Germania verrà considerata la nazione causa di tutto questo grande conflitto e verrà pesantemente punita e umiliata come dicevo prima lo stesso Wilson propone la nascita e la fondazione di questa Società delle Nazioni che verrà fondata, sì, la prima seduta sarà Tenusi, terrà il 15 novembre del 1920 parteciperanno 42 paesi ma gli Stati Uniti non partecipano a questa Società delle Nazioni alla Russia viene impedito perché viene vista come un pericolo perché c'è in atto prima la rivoluzione e poi il governo di Stalin e anche gli stati che hanno perso il conflitto non possono partecipare quindi vediamo che parte già carente e la pace stessa quindi sarà precaria infatti durerà fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale precaria perché era difficile con le ideologie, con gli ideali, con la diplomazia dell'Ottocento andare ad affrontare un problema che era completamente nuovo che era quello di generare un nuovo assetto europeo nel momento in cui gli imperi crollano e all'interno degli imperi ci sono popolazioni che hanno etnie, lingue e religioni molto diverse hanno il desiderio davvero di autodeterminarsi. La conferenza di Parigi si apre nel gennaio del 19 durerà circa fino a giugno, si svolgerà principalmente a Versailles e il compito principale è quello di ridisegnare la carta dell'Europa che andremo a vedere meglio anche poi nel prossimo video in cui vado ad affrontare cosa cambia fra gli stati che hanno vinto e perso quindi è necessario ricreare una carta europea però cercando di tenere in considerazione le basi etnolinguistiche, gli stati multietnici che erano già presenti e la convivenza che porta in alcuni casi anche all'intolleranza questa convivenza è difficile all'interno di questi stati dove etnie diverse sono state obbligate a convivere e quindi è necessario fare tutte queste cose sono più o meno tutti d'accordo soprattutto la Francia con Clemenceau che bisogna ridimensionare la Germania ponendola pesantemente perché ha scatenato questa guerra e d'altro canto è anche necessario arginare la Russia, la Russia bolshevica dove appunto i bolshevichi che trasformeranno poi il loro partito nel partito comunista guidato da Stalin diventeranno a tutti gli effetti un'unione di federazioni socialiste sovieti che vorranno in qualche modo estendere ed espandere la rivoluzione bolshevica quindi è necessario arginarla con degli stati che verranno chiamati cuscinetto che hanno la funzione proprio di contenere eventualmente l'avanzata bolshevica e quindi questi qua sono i punti principali il punto più grande è quello davvero di arginare la Germania il presidente francese Non de Morde vuole assolutamente ridurre la potenza tedesca e la Germania deve accettare queste condizioni che sono pesantissime perderà l'Alsazia e la Lorena che erano dei territori di confine e verranno ridate alla Francia la Germania dovrà cedere la Sara che è una zona di bacini carboniferi quindi poteva essere una grande fonte di materie prime che poi lavorate potevano dare spinta e slancio a un'industria pesante deve cedere la Polonia, la Pomeraria, l'Alsazia e verrà creato il corridoio di Danzica per permettere alla Prusse di avere un accesso poi sul mare la Germania deve ridurre l'esercito a 100.000 soldati quindi davvero ridurlo in maniera molto drastica andrà a perdere le colonie e poi dovrà rimborsare i danni di guerra e lo andremo a vedere meglio poi con la Francia ma la Francia è uno dei territori che ha subito anche una grande invasione territoriale quindi dal 19 in poi sarà necessario ricostruirla e i soldi ci dovrà mettere la Germania la situazione complicata è anche quella che era dell'impero austro-ungarico che cade quindi non c'è più se andrà a creare da una parte l'Austria e l'Ungheria l'Austria quindi un territorio davvero molto più contenuto limitato rispetto alla vastità dell'impero che era prima e anche l'Ungheria andrà a creare una repubblica ma vedremo che avrà anche qua vita difficile l'Italia è legata al territorio austro-ungarico perché l'Italia andrà a ottenere come era stato previsto dagli accordi dal patto di Londra il Trentino, il Sud Tirolo, Trieste, l'Istria ma non avrà niente Dalmazia né fiume che andranno a generare problemi ulteriori come già detto per quanto riguarda la Russia deve essere arginata perché è in atto questa possibile rivoluzione del partito comunista infatti nel marzo del 19 si unisce la terza internazionale che verrà chiamata Comintare che dice che i partiti che vogliono aderire a questa internazionale devono impegnarsi a difendere la Russia devono rompere in qualche modo quindi i rapporti con i riformisti perché devono portare avanti la rivoluzione e quindi l'idea è proprio quella di espandere questa idea questa nuova ideologia nel continente europeo che poi non avverrà e vengono appunto creati degli stati cuscinetti come la Finlandia, le Repubbliche Baltiche e la Polonia che hanno proprio questo compito un po' di essere degli stati che si frappongono fra l'Europa e l'Unione Sovietica e da un punto di vista economico quindi la guerra è stata costosissima per tutti gli stati sia che abbiano vinto sia che abbiano perso l'infrazione è altissima e quindi bisogna cercare una soluzione per andare a risanare i vari sistemi economici le industrie inizialmente verranno indebolite dovranno essere riconvertite questo non sarà facilissimo infatti inizialmente ci sarà un'alta disoccupazione in quasi tutti gli stati e da non dimenticare che molti degli uomini che stanno tornando in realtà sono dei reduci quindi hanno avuto delle anni pesanti in guerra alcuni di loro tornano con delle difficoltà fisiche con delle difficoltà anche psicologiche quindi bisogna prendersi cura anche di queste persone che non sono più in grado di tornare al lavoro e abbiamo accennato la condizione femminile durante la guerra durante la guerra le donne entrano in maniera comunque vivace nel mondo del lavoro per andare a sostituire spesso anche i mariti nelle aziende adesso che gli uomini sono tornati la guerra è finita non servono più vengono rimandate a casa anche questo in realtà sarà un problema perché non vogliono ritornare ai ruoli tradizionali si batteranno per avere tutta una serie di diritti un accenno in qualche modo che può essere un lato positivo di questo sistema che sembra davvero difficile è legato alla modernizzazione dell'industria l'industria appunto è in difficoltà all'inizio ma è anche attraverso questa difficoltà che andrà a migliorarsi andrà a evolversi perché ci sarà una produzione di massa e questo sarà possibile grazie alla nuova organizzazione del lavoro pensata da Taylor e poi attuata principalmente da Ford Taylor dice che per rendere il lavoro in fabbrica più efficace è necessario sottoporre il lavoro stesso a un'indagine scientifica per aumentare la produttività dei singoli operai e quindi questa è una cosa Ford propone di fare una catena di montaggio quindi far sì che ogni operaio sia specializzato soltanto su un lavoro affinché possa essere più produttivo più efficace e anche alla fine tutta questa catena di montaggio possa portare a un prodotto finito in un minore tempo e anche con un costo inferiore e di conseguenza è questo il modo che va a trasformare il sistema dell'industria soprattutto quella pesante soprattutto quella dell'automobile ma di una serie di beni che non sono più di lusso ma che si andranno a diffondere in realtà fra un grandissimo un vasto numero di persone queste prime teorie verranno applicate negli Stati Uniti ma poi vedremo che in Europa soprattutto sarà la Germania a far proprio questo modello e riuscirà a ottenere un'industria molto più produttiva rispetto anche al periodo pre-guerra e quindi si andranno a creare anche delle nuove classi sociali quindi gli operai che vengono ricordati come i colletti blu a causa della opervia della tuta blu che indossavano al lavoro e poi ci sarà una classe media dei colletti bianchi cioè tutti gli impiegati che indossano che indossano la camicia e quindi andremo a vedere come anche la società si rinnova in qualche modo come cambiano anche le varie richieste dei cittadini delle persone come un po' i partiti e il sistema che abbiamo visto che funzionava prima della guerra un sistema comunque legato a una repubblica piuttosto che a una democrazia andrà un po' in crisi perché era stato sospeso negli anni della guerra perché era necessario intervenire molto più velocemente quindi non sempre si rispettava l'itere diciamo così burocratico necessario e quindi questo andrà un po' a segnare la politica degli anni 20, 30 e 40 quindi queste qua sono un po' le in generale le situazioni che gli anni subito dopo la guerra molto in generale nel prossimo video andrò a soffermarmi principalmente su ogni singolo stato vedendo come l'impatto della guerra andrà a modificare la società il territorio e il sistema politico e anche economico spero che il video vi sia stato utile buono studio che è stato utile